ultimo grandissimo colpo di mercato della libertas in ordine cronologico è veramente incredibile a non credere siamo riusciti a portare la Giambanx a rigordo credo che sia veramente un grande regalo a tutti i libertassini per me uno dei giocatori più forti mai venuti in italia negli ultimi dieci anni devo dire è stato veramente un qualcosa di speciale legato anche al fascino che questa città veramente è veramente un fascino che travalica i confini arrivato anche in Florida quindi veramente un benvenuto da Adrian perché è un giocatore fantastico e sono sicuro che diventerà l'idolo di tutte le nostre tifose e un commento su questa serata dello sport livornese una grandissima occasione io credo che Livorno ti mostri ogni volta di più come lo sport faccia parte del proprio DNA e questa è una serata veramente ben organizzata e a me piace particolarmente la commissione la commissione dei vari sport che poi fa cultura fa stare insieme fa amicizia fa gioventù è una cosa molto bella e spero vado avanti per tanto tempo c'è anzi qualche idolo